Questa partecipazione si chiama Sweet Home, è una partecipazione molto colorata, molto spiritosa, vedete abbiamo realizzato la casa degli sposini in maniera molto molto simpatica, ha questo formato particolare quadrato di piccole dimensioni, infatti è realizzata su una dimensione 13x13, ha un'apertura a libro, vedete quanto è colorata, molto carina, molto simpatica, e ha tutto il testo interamente inserito all'interno di questo spazio, infatti vedete c'è sia l'annuncio al matrimonio che anche quello per il ricevimento. Nella parte di sinistra invece troviamo l'indirizzo degli sposi, ecco anche il decoro nella parte finale. La partecipazione è stata realizzata su una carta Fabriano martellata di colore bianco, la busta che abbiamo scelto come abbinamento per questa partecipazione è anche questa, una busta molto molto graziosa, vedete abbiamo scelto questo contrasto di colore del fucsia sulla carta bianca, è consigliata per una sposa e uno sposo insomma che hanno voglia di giocare comunque sia e di essere molto molto colorati. In alternativa, se non piace questo abbinamento di colore che abbiamo scelto, possiamo comunque utilizzare la busta del colore della carta, vedete è una busta sempre di formato 14x14 e rimane un po' più delicata, molto molto carina. Le varianti di colori previste per questa partecipazione Sweet Home sono il verde e il lilla, oltre naturalmente al fucsia che è quello della partecipazione inserita come modello.